Si avvicina allo spettro della cassa integrazione per gli oltre mille lavoratori della Piaggio Aerospace. Il provvedimento dovrebbe scattare a partire da maggio e ne resterebbero esclusi soltanto piloti, dirigenti e Piaggio Aviation. È quanto emerso a margine di un incontro svoltosi oggi all'Unione Industriale di Savona. Nell'occasione il commissario straordinario di Piaggio, Vincenzo Nicastro, ha commentato positivamente le parole del Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, circa la possibilità di accertare meglio l'acquisto di droni, ma procedere comunque con l'acquisto di aeree P-180. Gli ordini militari, secondo Nicastro, agevolerebbero anche nuovi ordini civili, con una positiva prospettiva. I sindacati, dal canto loro, hanno chiesto che dalle parole si passi finalmente ai fatti e che gli annunci del Ministero della Difesa diventino atti concreti. Per questo le organizzazioni sindacali hanno anche chiesto la creazione di un tavolo con il governo, al fine di accelerare l'avvio delle commesse.